E' il mio bambino E' il mio bambino come il tuo Come mai non piangere? Dorme! Ma non respira! Perché? Perché? Perdonami! Perdonami ma che non c'è nessun bambino! Qui ci sono soltanto stracci! Io non posso avere figli! Io non posso dare niente di buono! Nessuno lo dicono tutti! Ma io sono venuta da una città lontana! Da tanto lontana! Sono venuta da tanto! E spero! E spero che il bene che sia nato qui Sia il bene per tutti! Ascolta nuova donna! Ascolta bene! Silenzio! 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 Il bambino! Silenzio! 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 Dalla tua orgoglia che porta questo bambino, questa speranza nella tua terra, Taranto. La speranza a questa tua città, porta la speranza a Taranto, che risorga, che rinasca, che riviva questa città. Nel presepe di tutti i Tarantini, tra tutti quei bufanzi, c'è anche quello di una donna. Una donna con un bambino in pace tra le braccia, perché è il simbolo, il simbolo di questa speranza, di questa rinascita, di questo lieto evento, lieto evento per Maria e Giuseppe, Per l'angelo bianco e anche un po' per l'angelo nero. La rinascita per questa gente, per questo popolo, per i sapienti e per gli umili, gli ultimi, i più poveri, gli ultimi, per loro, la speranza, i più poveri. E allora, gente da pubblico, cari spettatori, noi avremmo tutto. Testiamo per l'angheria. Se un po' mi è piaciuto, fatete le mani. Se un po' mi è piaciuto, fatete le mani.